Amici e amiche carissime, eccoci tornati a un nuovo appuntamento, un nuovo incontro sulla Catechesi Biblica sull'Antico Testamento. Stiamo vedendo gli inizi del Libro della Genesi, la volta scorsa abbiamo visto la creazione fino al peccato originale e le sue conseguenze. Oggi, se Dio vuole, andiamo a vedere i capitoli seguenti, sperando di riuscire a fare un bel voletto di gabbiano, anche se sul sesto capitolo dovremo fermarci un po', sperando che non ci porti tutto il tempo, perché è un passo assolutamente fondante, controverso e vedremo un'interpretazione che è stata data anche grazie alla mistica Maria Valtorta, che Gesù ha dato per le chiavi di lettura veramente di uno dei passi più oscuri di tutto quanto il Libro della Genesi. Dopo questa trattazione faremo certamente un incontro dedicato ad Abramo e poi velocemente anche agli altri discendenti, perché queste categorie saranno un pochino, come dire, un po' generali, un po' rapide, perché vedete che tutto l'Antico Testamento, quindi forse ci soffermeremo per i grandi temi, quindi Abramo, Mosè, Josue, poi vedremo piano piano insomma andando avanti. Io direi subito, direi per chi segue la diretta, anche per chi può vedere il video, la condivisione dello schermo, perché così ripartirei con le slides da dove ci siamo fermati la volta scorsa, esatto, cioè da qui. Bene, partiamo, provo un attimo a vedere se funziona tutto, sembra di sì. Occhio ai miei collaboratori che stanno seguendo, sicuramente se ci dovessero essere problemi con le condivisioni dei video o cose di questo genere, per favore, fatemelo presente. Bene, ci troviamo all'interno della sezione dedicata alla caduta che abbiamo già visto. In Genesi 4 troviamo, anzitutto, il primo sangue versato sulla terra, Caino e Abele, oltre che al concepimento di Caino e Abele da parte di Adamo ed Eva. E poi, dopo la morte tragica di Abele, cosa importantissima, perché Caino, come vedremo, è un termine assolutamente preponderante della narrazione dell'origine, proprio un discriminante, uno da cui è partita una linea abbastanza problematica. Poi nei capitoli seguenti, nel capitolo quinto, che sono un elenco di nome, c'è appunto la serie dei patriarchi prediluviani e arriva addirittura fino a Noè e i suoi tre figli, quelli che salivano con lui sull'arca. Ecco, a capitolo sesto c'è il misterioso inciso sui figli di Dio e figli degli uomini. E quindi, 614. E andremo a vedere cosa dice a riguardo Maria Valtorta nei quaderni del 45-50, il 30 dicembre del 1946, un passo molto importante. Subito dopo, appunto, è proprio la narrazione di questo episodio, c'è la descrizione della corruzione dell'umanità, quella stessa corruzione dell'umanità che poi porterà al diluvio universale. Io vado avanti con le slides, così finiamo la presentazione e poi ci andiamo a soffermare sui dettagli. Così usciamo da questa... Allora, andiamo a vedere adesso la sezione dedicata al diluvio universale. Allora, abbiamo il ciclo di Noè col diluvio. Allora, anzitutto, proseguendo il capitolo 6, ci sono note ulteriori sulla corruzione della terra e i preparativi e la costruzione dell'arca nel restante parte del capitolo 6 fino al versetto 16 del capitolo 7. Dopodiché abbiamo proprio il diluvio universale descritto dal diciassettesimo versetto del capitolo 7 fino al ventiduesimo dell'ottavo e il termine del diluvio con il famoso epicero della colomba che esce dall'arca e ritorna con il romoscello d'olivo, quindi a testimonianza del fatto che le acque erano calate e che si poteva quindi uscire di nuovo sulla terraferma. E poi abbiamo il nuovo ordine del mondo e la prima alleanza, attenzione, la prima grande alleanza stipulata da Dio con l'uomo, che è l'alleanza con Noè, non è quella con Abramo la prima alleanza, attraverso il segno dell'arco baleno. E questo se ne parla in Genesi 9, versetto 1 al 17. Poi abbiamo la terra ripopolata, attenzione, dai discendenti di Set, Cam e Yasef, che sono i tre figli di Noè. Attenzione che Noè, vedremo poi, è stato preservato in questo azzeramento dell'umanità che c'è stato, vedremo perché si è reso necessario questo intervento molto drastico da parte dell'Altissimo. E abbiamo quindi il ripopolamento dei discendenti di Set, Cam e Yasef, quindi con tutti quanti poi, anche qui c'è un elenco abbastanza ampio di nomi, che sono i patriarchi post-diluviani. Dopodiché, prima di arrivare ad Abramo, che Abramo comincia con il capitolo dodicesimo, c'è l'episodio, che è abbastanza famoso, della Torre di Babbele, nel capitolo 11 del Libro della Genesi. E che cosa succede? Molto brevemente, gli uomini si mettono in testa di erigere questa Torre di Babbele e la conseguenza di questo è un intervento divino che provoca la confusione delle lingue. E di seguito, di nuovo, l'elenco di tutti quanti i patriarchi post-diluviani, e cioè la discendenza di Set in particolare, attenzione, fino a Terak, padre di Abramo. Quindi attraverso Set si arriva a Terak, padre di Abramo, quindi attenzione, questa è la discendenza per cui poi nascerà il nostro Signore Gesù Cristo. E attraverso Set ci si congiunge a Noè e attraverso Noè, attraverso la linea di Sem, attenzione, quindi figli di Dio buoni, come vedremo, si arriva fino ad Adamo. Ok? Bene, con questo la slide possiamo toglierla e passare adesso a vedere un'altra visualizzazione dello schermo, se me lo fa fare, senza... ecco. E andiamo a prendere ovviamente la Sacra Scrittura. e andiamo quindi a risituarci, io esattamente andrò un pochino veloce, andiamo a prendere la nostra piccola esapla. Ok? Bene. E andiamo un pochino a vedere, oh qui stiamo su un'altra pagina. Torniamo al libro della Genesi. Ok? E precisamente scendiamo al capitolo quarto. Attenzione, prima notazione del capitolo quarto. Chiaramente questi argomenti che trattiamo in questi giorni, si intersegano, così facciamo il solito spot pubblicitario, si intersegano con l'importante catechesi, che sto facendo un po' di tempo, sul peccato originale, cioè molti dei temi che qui affronteremo un pochino a passare, poi saranno approfondite. Anche questo che andremo a vedere adesso, sarà poi oggetto di approfondimento molto, molto dettagliato. Allora, attenzione che al primo versetto del capitolo quarto, che cosa succede? Che vediamo che Adamo, questa è la cese 74 a fianco del 2008, si unì a Eva sua moglie, conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino. Attenzione, quindi il primo genito di Adamo ed Eva, di Adamo ed Eva è Caino. De Ahadam, Yada, questo è proprio in ebraico, è proprio il verbo della conoscenza, quindi conobbe, vedete che nella volgata infatti c'è Eva, sua moglie Ishto, va tachar, tachar significa concepire e concepì, il verbo è Harah, va teled, yalad, partorire, et Caino. E disse, quindi questa è una certa possibile, come dire, un po' improbabile però, etimologia di Caino, un pochino azzardata, insomma, perché non è che i radicali siano proprio gli stessi, comunque ho acquistato, Caino significa proprio comprare, però ho acquistato un uomo dal Signore, no? Possedi hominem per dominum. Quindi attenzione, questo è un particolare molto importante, dopo il peccato originale, cioè Adamo ed Eva non hanno figli, nonostante, attenzione, che nei capitoli precedenti, come ricorderemo, si è stato detto crescetevi e moltiplicatevi. Domanda, questo è oggetto di approfondimento nell'altro secolo di catechesi, no? Ma insomma, come mai hanno scelto di crescere di moltiplicarsi dopo il peccato originale? Prima non potevano farlo? Punto interrogativo. Questo versetto è stato ampiamente, lo dico così, anche se questa è una catechesi biblica, ripeto, si deve approfondire nell'altro ciclo, è stato oggetto di amplissima dissertazione da parte dei padri della Chiesa in epoca patristica e tutti quanti, vedendo che qui si parla chiaramente a Adamo, Sionia, Eva, sua moglie, conobbe, questo è il senso biblico, conobbe significa, non conobbe nel senso che ne fece conoscenza, la conosceva già prima Eva, la conobbe nel senso con cui si usa in modo elegante per dire che ebbe rapporti coniugali con lei. Come mai dopo il peccato originale? Sulla base di questo versetto, tanto per invitare all'ascolto la stragrande maggioranza, quasi l'unanimità dei padri della Chiesa, ha inteso il fatto che prima del peccato originale c'era la verginità e la condizione dell'uomo senza il peccato originale sarebbe stata quella verginale. Come testimoni alla vicenda verginale, quindi l'essersi mantenuti vergine indirettamente, quindi questa è una prova indiretta, da parte sia di nostro Signore Gesù Cristo che di sua madre Maria Santissima, sempre vergine. Ora, subito dopo appare la tragedia, quindi viene partorito Abele, dopo, Abele si dice che era pastore di gregge e Caino lavoratore del suolo. Sto leggendo chiaramente. Dopo un certo tempo che succede? Caino offre i frutti del suolo e il sacrificio al Signore. Abele, primo genere del gregge, il Signore gradisce Abele, ma non gradì Caino la sofferta. Caino si avvelena, si arrabbia e il Signore lascia intendere da questo vertetto. Quindi vuol dire che Caino già stava muovendosi su piste non buone, perché se agisci bene non dovrai forse tenere un altro, ma se non agisci bene il peccato è cuocciato alla porta verso il rete, il suo estinto ma tu dominano. Si comprende da questo versetto che non è che il nostro Signore non ha gradito il sacrificio di Caino perché non gli andava e ha gradito quello di Abele perché gli andava. Come si dice nella preghiera Eucharistica 1, nel canone romano, come gradisti un tempo i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abele il giusto. Se Abele era il giusto Caino stava già iniziando il suo iter di corruzione che poi si consuma con il fratricidio. Quindi qui Caino, andiamo in campagna e mentre erano in campagna Caino alza la mano con il tuo fratello Abele e lo uccise. Qui il Signore disse a Caino doveva bene il tuo fratello. Insomma, maledizione su Caino, quindi sii maledetto. Attenzione, qui in ebraico c'è proprio il termine Arur, Arur è un brutto termine in ebraico. Avete visto, vi ricordate anche il profeta Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Il termine è Arur, che viene appunto dal verbo Arar, che significa proprio maledire in senso forte, in senso stretto. Maledetto tu, in mezzo tutta la terra. Min ha'adamà. Quindi... Sì, qui lo vedete... Qui la cei come sempre da una traduzione un pochino discutibile, no? Ora sii maledetto, lungi da quel suolo. Mi... Ecco, quindi... Min, certamente min in ebraico, fondamentalmente come significato principale è certamente da, ma può significare anche tra, così come la può greco, significa certamente principalmente da, ma significa anche fra, quindi maledetto tu non lontano dalla terra, quindi una... Ma benedetto tu nella terra, tu sei il maledetto per antonomasia e purtroppo vedremo che sarà proprio così, perché... Qui c'è una scerra un pochino esprimativa e esprimativa. Maledetto tu, fra questa terra che ha aperto la sua bocca per prendere et de me il sangue di tuo fratello dalla tua mano, migliadeh, sto proprio traducendo parola per parola, eh? Maledetto tu, fra questa terra, proprio il maledetto della terra per antonomasia, quella terra a cui tu hai fatto bere il sangue del tuo fratello, questo è il primo sangue sparso. Attenzione che qui compare, come dire, un gigantesco e palese, peccato verso il prossimo nella forma più grave, quindi l'uccisione e nella forma aggravata dal fatto che questo è un fratricidio. Tanto è vero che ormai ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. E tanto è vero che questo fa dire a Caino, non doveva dirlo, troppo grande la mia colpa per ottenere perdono, non è vero, ma purtroppo questo disse, gadol anovì, mi minnesho, quindi troppo grande è la mia colpa, minnesho per avere il perdono, sì, utveniam merear, si potrebbe anche dire troppo grande, grande la mia colpa da sopportare, no? Quindi to lift in inglese, to carry, to take, no? In greco c'è una maggiore, nella 70 c'è già e anche nella vulgata utveniam merear etu afetenaime, che significa proprio essere perdonati, no? In ebraico c'è questo termine che può significare in certe declinazioni anche un'allusione al perdono, ma propriamente significa proprio portare, sopportare, nasa, vabbè, comunque. E poi c'è questo misterioso segno di Caino, nel senso che c'è la maledizione di Dio, ma nessuno è autorizzato a toccare Caino. Anche qui c'è una bella, c'è una bella, come dire, c'è un bel insegnamento anche per noi, no? Ok. Caino finisce ad una moglie e qui ci sono una serie di tutti quanti i discendenti prediluviani. Non leggiamo tutta quanta sta lista, quindi si può scorrere insomma abbastanza bene. Qui c'è la genealogia al capitolo quinto di Adamo, quindi anche qui si vede che Adamo aveva 130 anni, attenzione, attenzione, Adamo aveva, quindi ci sono Caino, ci sono Abele e poi nasce il terzo figlio ad Adamo, questo è molto importante. Adamo aveva 130 anni, quando generò a sua immagine e a sua somiglianza, attenzione, a sua immagine e a sua somiglianza, un figlio, e lo chiamo Osset, qui abbiamo gli stessi termini ebraici, Bidmuto e Ketzalmoo, che compaiono nella creazione dell'uomo, cioè quando Dio dice che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, o esattamente questi stessi identici termini. Quindi che significa? Significa che Seth, adesso faccio tutte quante queste specificazioni perché, ecco, significa che Seth conserva l'immagine e la somiglianza con Adamo. Questa immagine e somiglianza con Adamo, invece, come vedremo, Caino l'ha progressivamente perduta a causa dell'imbarbarimento e della degradazione verso il basso, che lui si è consumata già prima, come allude il testo della Genesi, per il fatto che il suo sacrificio non era stato gradito, quindi stava già scendendo verso una vita di peccato, ma con il fratricidio si è proprio consumata una discesa verso il basso e vedremo più avanti che la discendenza di Caino è stata la causa della rovina dell'umanità. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, ci viene detto qui, poi morì, c'è la storia di Seth, quindi Seth aveva 105 anni quando generò Enos e qui ci sono i discendenti di Seth e scorrendo i discendenti di Seth, piano piano, qui non li leggiamo tutti quanti, c'è la misteriosa figura, questa è importante, di Enoch, personaggio misterioso. Enoch camminò con Dio, si dice qui in maniera molto molto lapidaria, attenzione quindi nella discendenza di Seth, si conserva tra virgolette un santuomo, questo è Nitpael, quindi camminò con Dio Enok, poi dopo aver generato Matusalemme, vissi ancora per 300 anni, generò figli e figlie, l'intera vita di Enok fu di 365 anni, poi Enok camminò con Dio e non fu più perché Dio l'aveva preso. La Cielo 2008 dice scomparve, andiamo a vedere il testo originale come sempre, quindi ancora ricorre camminò con Dio stesso termine, stessa espressione del versetto precedente, quindi E poi a un certo punto, ve, enenu ki laka on, allora qui letteralmente sarebbe e non più lui, letteralmente, poiché, vedete laka, lo stesso termine di prima, prendere, quindi lo aveva preso, Otoho, lakao Otoho e lo chimo. A un certo punto, poiché, a un certo punto e lui non c'è più perché Dio l'aveva preso. E sappiamo bene che Enok insieme ad Elia sono due personaggi biblici che sono stati misteriosamente presi dall'Altissimo e non si sa che fine hanno fatto, sicuramente non sono morti, non sono né morti né risorti, sono stati, la Bibbia non ci dice altro, è morto Elia, nessuno è autorizzato a dirlo, è morto Enoch, nessuno è autorizzato a dirlo. Sono personaggi, come dire, misteriosissimi, non sono né glorificati e non sono però misteriosamente passati per la morte. Attenzione che qui si nota per due volte camminò con Dio. Questi sono grandi misteri, la Bibbia è piena di grandi misteri, quindi nessuno pensi che andando a vedere la Bibbia ne usciremo fuori. La Bibbia è bellissima, ma ci immergiamo con un'espressione cara origene in un mare di misteri, entrando dentro la Bibbia. E arriviamo finalmente, scorrendo ancora, il padre, il figlio di Enoch, uno dei figli di Enoch, Matusalemme, Matusalemme genera Lamech, Lamech fu il padre di Noè. E attenzione che già nel nome di Noè, generato quando aveva la venerabile età di 182 anni, lo chiama Noè dicendo, costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Qui si ritorna alla maledizione post peccato originario, non ho maledetto sia il suolo per causa tua. E comunque, dopo Lamech, c'è appunto Noè e i figli di Noè, Sem, Am e Iafet, attenzione, Sem, Kam e Iafet, da cui i semiti e i kamiti. I semiti poi sarebbero diventati gli ebrei. Il ceppo semitico, i kamiti, la terra di Kam, quella che si chiama la terra di Kam, è appunto l'Egitto. Poi arriviamo nella sezione, come si vede qui nel capoverso e nel titolo dell'intestazione di CEI 2008, Noè e il diluvio. E veniamo a questo passo misteriosissimo. Tra l'altro l'ho proprio recentemente riapprofondito in ebraico. Allora, lo leggiamo prima in italiano. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio, attenzione, qui è proprio abbastanza inequivocabile il termine, bene ha Elohim. Videro che le figlie degli uomini, banot ha Adam, più che degli uomini e le figlie dell'uomo, proprio, per essere proprio... erano belle e ne presero per moglie a loro scelta. Allora il Signore disse, attenzione, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Uno dice, ma comunque che è sta cosa? Figli di Dio, figli degli uomini, uomini, che c'entra? Cioè, i figli di Dio vanno con le figlie degli uomini, allora cala l'età, avete visto l'età di prima, no? 800, 350, 900, eccetera, no? 120, scaliamo a 120. E poi, c'erano sulla terra i giganti a quei tempi. E anche dopo, quando i figli di Dio, attenzione, si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Che cos'è sta cosa? Subito dopo, questo inciso, comincia la declarazione dell'umanità, dobbiamo leggerlo prima, dopo andiamo a fare l'interpretazione. Il Signore vede che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Scusate, siamo passati da Enoch che cammina con il Signore, così bravo che il nostro Signore se lo prende e se lo rapisce in cielo. I figli di questo sono Matusalemme, Lamech e il padre di Noè. Noè era un bravo ragazzo, giusto? I figli pure. Ma che è sta roba? compare questo inciso, i figli di Dio e i figli degli uomini, e poi comincia qua. La malvagità degli uomini era talmente grande che, oh, e addirittura per settosè il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. Accipicchia. E che sarà successo? Ancora il Signore dice sterminerò l'uomo dalla faccia della terra. Anche qui, ma ha è proprio lo cancello dalla faccia della terra. Cioè, la cancellazione. In inglese è wipe out, ma ha un termine, anche un verbo ebraico molto, 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 molto forte. Lo cancello dalla faccia della terra. E con lui anche il bestiazio, tutto quanto. Mi sono pentito di averli fatti. qui è proprio il verbo ebraico non è che lascia, cioè, nakam, cioè, mi sono dispiaciuto, mi sono proprio addolorato di averli fatti. E dopo. Ma Noè trovo grazie agli occhi del Signore. Noè trovo grazie agli occhi del Signore. E come mai? E come ha fatto Noè a sfuggire a questa logica o? Di nuovo, la storia di Noè era uomo, attenzione, giusto e integro tra i suoi contemporanei e guardiamo un po' che succede, guardiamo un po' che succede, ritroviamo lo stesso termine che abbiamo trovato con Enoch. Et ha Elohim it ha lech noach. Anche Noè camminava con il Signore. Anche Noè camminava con il Signore. Ma gli erano la tre figli, la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Vedete, avete visto il movimento ebraico che si chiama Hamas, no? Eccolo Hamas. Violenza significa proprio, no? Hamas. Hamas proprio con la che bella aspirata, con la che bella aspirata. ancora, Dio guardò la terra ed essa era corrotta, attenzione, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Quindi abbiamo violenza, che ci fa pensare la violenza? Quindi sarà qualche cosa anche di forse collegabile a quell'atto di violenza fatto da Caino e questa perversione che perversione pervertito la condotta è eccolo qua il verbo il verbo shakat è proprio la corruzione una cosa brutta proprio una cosa brutta un principio di corruzione in greco lo stesso c'è katapteiro brutto in latino c'è corruperat quindi c'è corrompo ricorre per due volte questo verbo qui qui e qui vediamo quindi perché tutta la terra si era corrotta e ogni carne si era corrotta in tutta la terra e a causa di tutto questo poi succede il dubbio che è abbastanza famoso quindi ora dobbiamo andare a vedere questi versetti dal cello 1 al 4 adesso io qui certamente faccio perché quando lessi anche io questa cosa di Maria Valtorta qui questo è un brano su cui ci sono scervellati centinaia di esegeti e faccio prima una sintesi che cosa rivela Gesù a Maria Valtorta attraverso questo brano allora che questi fantomatici figli di Dio e i figli degli uomini in realtà questi discendenti dei figli di Dio erano la linea che era ancora umana ma discendente da Caino mentre questi figli degli uomini come vedremo è meglio che lo vada a leggere perché se no sto già facendo confusione io allora che cosa succede 30 novembre 1946 leggo il primo passaggio che già si stava alterando qualche transistor mentale quindi è meglio che lo leggiamo così poi lo posso commentare adeguatamente allora scrive Maria Valtorta sento che hanno ritrovato in una caverna scheletri di uomo scimmia resto pensierosa dicendo come possono asserire ciò saranno stati brutti uomini volti scimmieschi e corpi scimmieschi ce ne sono ancora forse i primitivi erano diversi da noi nello scheletro mi viene un altro pensiero ma diversi in bellezza non posso pensare che i primi uomini fossero più brutti di noi essendo più vicini all'esemplare perfetto che Dio aveva creato e che certo era bellissimo oltre che fortissimo guardate come ragionava bene questa cristiana dice ma se Dio ha creato Adamo e lei ci credeva com'è possibile che questi hanno trovato dei referti storici dove ci stanno gli scimmioni da dove vengono questi qua e ci stanno i fossili di queste cose noi non possiamo mica fare finta che non esistano sappiamo benissimo tutti quanti che a causa della presenza di questi fossili un bel giorno si è alzato un certo Charles Darwin e ha tirato fuori la teoria evoluzionistica penso a come la bellezza dell'opera creativa più perfetta si sia potuta avvilire tanto da permettere agli scienziati di negare che l'uomo sia stato uomo creato da Dio e non sia l'evoluzione umana della scimmia Gesù mi parla e mi dice cerca la chiave nel capitolo 6 della Genesi questo che abbiamo appena letto Gesù mi chiede capisci e le risponde no signore capisco che gli uomini divennero subito corrotti e nulla più ma non so che attinenza abbia il capitolo con l'uomo scimmia Gesù sorride e risponde non sei la sola a non capire non capiscono i sapienti e non gli scienziati non i credenti e non gli atei stammi attenta lo dice a lei lo dice a noi attenzione adesso questi passaggi sono delicati avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra quindi sta rileggendo il brano nostro quindi andiamolo a riprendere così ce l'abbiamo davanti agli occhi mano a mano che Gesù lo legge quindi ritorniamo al versetto 1 del capitolo 6 eccolo qua della Genesi allora avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra e avendo avuto delle figliole i figli di Dio attenzione per figli di Dio Gesù intende tra parentesi o figli di set attenzione il terzo genito di Adamo e di Eva videro che le figlie degli uomini cioè i figli di Caino le figlie di Caino erano belle e sposarono quelle che fra tutte quelle che fra tutte loro piacquero ora dunque dopo che i figli di Dio si congiunsero con le figlie degli uomini queste partorirono e ne vennero fuori quegli uomini potenti famosi i famosi giganti attenzione qui Gesù sta parlando di una doppia linea i figli di Dio cioè quelli che hanno mantenuto la somiglianza attenzione ricordiamo quando abbiamo visto la generazione di set lo fece a sua immagine e somiglianza cosa sta dicendo vuol dire che l'altro figlio superstite Caino che evidentemente era nato anche lui a immagine e somiglianza di Adamo ma stava degradandosi sempre di più stava sempre di più abrutendosi perdendo sempre di più queste immagini e somiglianza proseguo la lettura del testo del Valtorta gli uomini che per potenza del loro scheletro colpiscono i vostri scienziati che ne deducono che al principio dei tempi l'uomo era molto più alto e forte di quanto è attualmente e dalla struttura del loro cranio che l'uomo deriva dalla scimmia commettono i soliti errori degli uomini davanti ai misteri del creato non hai ancora capito ti spiego meglio se la disobbedienza all'ordine di Dio e le conseguenze della stessa cioè il peccato originale avevano potuto inoculare negli innocenti cioè Adamo ed Eva il male con le sue diverse manifestazioni di lussuria gola ira invidia superbia avarizia presto l'inoculazione fiori in fratricidio provocato da superbia ira invidia avarizia e quindi quale più profonda decadenza e quale più profondo dominio di Satana avrà provocato questo peccato secondo Adamo ed Eva avevano mancato al primo dei comandi di Dio all'uomo amerai il Signore di Dio con tutto il cuore e gli obbedirai avevano disobbedito a Dio quel peccato originale comando sottinteso nell'altro di obbedienza dato ai due mangiare di tutto ma non di quell'albero l'ubbedienza e amore se essi avessero obbedito senza accedere a nessuna pressione del male avrebbero amato Dio con tutto il cuore con tutta la mente non lo fecero e furono puniti e vabbè questo è il peccato originale ma non peccarono contro l'altro ramo dell'amore l'amore del prossimo che cosa ha fatto Caino? non maledissero neppure Caino loro Adamo ed Eva ma pianzero sul morto nella carne Abele e sul morto nello spirito Caino in uguale misura riconoscendo che giusto era il dolore da Dio permesso perché essi avevano creato il dolore con il loro peccato e per primi dovevano sperimentarlo in tutti i suoi rami quindi Adamo ed Eva rimasero perciò figli di Dio con i loro discendenti venuti dopo questo dolore ecco perché la Bibbia specifica Set a immagine e somiglianza di Adamo Caino peccò contro l'amore di Dio e contro l'amore del prossimo infranse l'amore totalmente e Dio lo maledisse e Caino non si pentì troppo grande la mia colpa per ottenere il perdono e che cosa è successo dopo? perciò egli e i propri figli non furono che figli dell'animale detto uomo attenzione a questo passaggio se il primo peccato di Adamo ha fatto di tanto decadere l'uomo che avrà decadenza il secondo quindi il peccato di patricidio contro il prossimo al quale si univa la maledizione di Dio quali fomi di peccato nel cuore dell'uomo animale perché privo di Dio e a quale potenza saranno giunti dopo tanto ascoltato il consiglio del maledetto cioè del diavolo ma lo ebbe abbacciato con il suo padrone di letto uccidendo per ordine suo la discesa di un ramo di quello avvenenato dal possesso di Satana il ramo di Caino non ebbe sosta ed ebbe mille volte quando Satana prende sempre Gesù che parla corrompe tutti i rami quando Satana è re il suddito diviene un Satana un Satana con tutte le sfrenatezze di Satana un Satana che va contro la legge divina umana un Satana che viola anche le più elementari e istintive norme di vivere da uomini dotati di anima e si abbrutisce nei più lai di peccati dell'uomo bruto brutto attenzione eh dove non è Dio è Satana dove l'uomo non ha più anima viva è l'uomo brutto il brutto ama i brutti attenzione a questo passaggio la lussuria carnale più che carnale perché afferrata e desasperata da Satana lo fa avido attenzione di tutti i connubi che significa tutti i connubi non solo tra uomo e uomo tra uomo e bestia bello e seducente gli pare ciò che è orrido e sconvolgente come un incubo illecito non lo appaga è troppo poco è troppo onesto è pazzo di libidine e cerca di illecito il degradante e il bestiale quelli che non erano più figli di Dio perché col padre e come il padre avevano fuggito Dio per accogliere Satana si spinse da questo illecito degradante bestiale ed ebbero mostri per figli e figlie capite è avvenuta una ibridazione del genere umano attenzione non come si dice in un'altra rivelazione di cui non parlo adesso ne parlerò poi nella catechesi sul peccato originale c'è un'altra di rivelazione privata da cui io prendo le distanze non ne sono affatto convinto per niente anzi che è un sacerdote che è Don Guido Bortoluzzi che interpreta l'ibridazione del genere umano come dipendente dal peccato originale di Adamo stesso e che avrebbe coinvolto tutta l'umanità irreversibilmente il che significa che il nostro Signore Gesù Cristo pure sarebbe nato da un genere umano non soltanto decaduto e questo ci sta ma ibridato cioè ibridato significa scimmionizzato cioè è una sorta di concessione all'evoluzionismo qui Gesù non sta dicendo questo sta dicendo che la linea dei figli di Dio la linea dei figli di Dio si è conservata Adamo Seth e attraverso Seth Noè la distruzione operata dal diritto universale da che cosa è stata provocata? Dal fatto adesso lo dirà che questi rapporti bestiali avevano cominciato a contaminare di tutto e tutti quanti quegli ominidi quei testi degli uomini di Neandertal quegli scimmioni che adesso abbiamo i fossili derivano da questo e il diritto universale è stato necessario per porre fine a questa cosa perché il genere umano non si andasse a colpire del tutto altro che le scimmie altrimenti veramente saremmo stati scimmioni anche noi capito? proseguo la lettura ho anticipato un pochino ebbero mostri per figli e figlie quei mostri che ora colpiscono i vostri scienziati li traggono in errore quei mostri che per la potenza delle forme e per una selvaggia bellezza ed un'ardenza belluina frutti del connubio tra Caino e Bruti fra i brutissimi figli di Caino e le fiere le bestie sedussero i figli di Dio ossia i discendenti di Seth Perenos Cainan Malael Yared Enoch di Yared da non confondersi con l'Enoch di Caino Ma tu sarò la Em e Noè padre di Sem Kameyafet quindi queste strane femmine nati da questi connubi dice che c'era un'ardenza e probabilmente anche una stimolazione sessuale del tutto peculiare e li attraevano e molti di questi caddero in questi unioni Dio attenzione ad impedire che il ramo dei figli di Dio si corrompesse del tutto con il ramo dei figli degli uomini cioè i figli della discendenza di Caino nati da questi unioni bestiali e i figli della discendenza di Seth che si era conservata tra virgolette pura ma non tutti perché cominciavano a essere attratti da questo mondo per impedire che si corrompesse del tutto mandò al diluvio a spegnere sotto il peso delle acque e a ribidere degli uomini e a distruggere tutti i mostri generati dalla libidina di senza Dio insaziabili nel senso perché arsi dai fuochi di Satana attenzione che in molti si vanno chiedendo ma come mai sono spariti gli scimmioni adesso non c'è tempo qui di approfondire questa cosa rimando all'altra catechesi ma sono stati trovati dei fossili praticamente di età quasi contemporanea in cui alcuni sembrano ominidi e altri hanno una conformazione cramica simile alla nostra e questo è mandato in tilt gli evoluzionisti come è possibile che sono quasi contemporanei attraverso questa spiegazione noi lo capiamo come fanno essere contemporanei perché c'è stata una ibridazione di una parte del genere umano e invece una parte del genere umano che si è mantenuta pura col diluovo universale cosa ha fatto Dio ha fatto sparire del tutto tutti quanti questi mostri e ha mantenuto in vita la radice di Noè da cui veniamo noi certamente ci abitiamo i segni del peccato originale tutti perché il peccato originale ha già comportato una grandissima decadenza del genere umano ma non un'ibridazione una commistione con un altro patrimonio genetico è spettacolare questa qui e l'uomo attuale conclude il dettato di Gesù farnetica sulle linee somatiche sugli angoli zigomatici e non volendo ammettere un creatore perché è troppo superbo per riconoscere di essere stato fatto ammette la discendenza dei bruti per potersi dire noi da soli ci siamo evoluti da animali a uomini si degrada si autodegrada per non volersi umiliare di fronte a Dio e discende ai tempi della prima corruzione sentite che bello che dice ebbe di animale l'aspetto quindi la la corruzione dei discendenti di Caino ha comportato l'animalizzazione di uomini scimmia di cui abbiamo i reperti fossili ora ne ha il pensiero e il cuore già negli anni 50 e la sua anima per sempre più profondo con nubio col male ha preso il volto di Satana in troppi dice prima si sono animalizzati i corpi adesso le anime vanno a prendere le sembianze di Satana e ci fermiamo qui poi abbiamo il celebre racconto del diluvio su cui possiamo andare abbastanza veloci perché è un fatto abbastanza noto tutti quanti lo conosciamo Dio fa costruire l'arca e poi conserva coppie a coppie degli animali puri dentro l'acqua piove sulla terra per 40 giorni e per 40 notti dopodiché dopo il grande diluvio quindi salgono attenzione sull'arca Noè Genesi 7 7 e con lui i suoi figli sua moglie e le mogli dei suoi figli quindi tutti e tre i suoi figli lui e la moglie questi sono coloro che avrebbero ripopolato la terra e degli animali mondi di quelli mondi entrarono a due a due con Noè nell'arca maschio e femmina come Dio aveva comandato loro entrano nell'arca e dopo sette giorni comincia il diluvio nell'anno seicentesimo della vita di Noè vedete cosa aveva detto il Signore il mio spirito non rimarrà troppo nell'uomo perché gli è carne gli do come limite 120 anni ma Noè arriva a 600 perché aveva conservato la linea discendente aveva era giusto davanti al Signore aveva camminato davanti al Signore come Enoch d'accordo cade la terra cade l'acqua quindi qui c'è tutto davanti il racconto sapete che gli ebrei si ripetono quindi fanno un periodo e poi lo riprendono lo riprendono lo riprendono insomma finisce sto diluvio ecco e per andare via la terra le acque dalla terra ci mettono versetto 3 del capitolo 8 ben 150 giorni e nel settimo mese quindi fate i conti 150 giorni 17 del mese l'arca si posa sui celebri sui celebri vetti del monte Aranat le acque vanno via vanno piano piano trascorsi 40 giorni Gesù apre la finestra prima fa uscire il corvo 8-6 e poi fa uscire la famosa colomba per vedere se le acque si fossero ritirate ma la colomba la prima volta non trovo doveva posare la pianta del piede torna nell'arca perché ancora c'era l'acqua attese altri 7 giorni fa di non uscire la colomba dall'arca e la colomba sul fare della sera porta nel becco un ramoscello di olivo Genesi 8-11 dopo altri 7 giorni fa andare la colomba e non torna più l'anno 601 della vita di Noè il primo mese le acque si erano prosciugate Noè toglie la copertura dall'arca escono dall'arca Dio ordina a Noè di uscire dall'arca con tutti gli animali Noè esce siamo al versetto 20 già e quando esce Noè edifica un'altra intera al Signore e gli offre attraverso gli animali mondi gli uccelli mondi puri Tachar in ebraico sull'altare il Signore odora la fragranza del sacrificio e dice non maledirò più il sole a causa dell'uomo perché l'istinto del cuore incline al male fin dall'adolescenza vedete? l'istinto del cuore dell'uomo incline al male fin dall'adolescenza questo ce l'abbiamo tutti che cos'è che si risveglia nell'adolescenza di tutti maschi e femmine? si risveglia la libido l'uomo diventa un maschietto sappiamo come la donna diventa una femminuccia sappiamo come sono due processi speculari no? non c'è bisogno che li nomini perché mi scoccia penso che tutti quanti capiamo no? la concupiscenza lasceranno anche i figli di Dio perché questa è diretta conseguenza del peccato originale questa rimane per tutti ce l'abbiamo tutti questa degradazione del genere umano questa sì che c'è stata l'ibridazione no? quella deriva dalla discendenza di Caino ed è scomparsa con il diritto universale questo sia chiaro o bene? Dio promette di non colpire più nessuno di essere vivente come ha fatto Dio di nuovo benedice Noè e gli chiede di essere fecondi e di riempire nuovamente la terra tutto quanto si muove sulla terra potrà mangiare tutto quanto soltanto la carne con la sua vita cioè il sangue queste cose qui e poi di nuovo si rinnova la maledizione su chi sparge il sangue dell'uomo chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo il suo sangue sarà sparso da qui viene il proverbio popolare che anche Gesù cita nel Vangelo chi di spada perisce di spada perisce perché ad immagine di Dio gli ha fatto l'uomo qui c'è l'affermazione chiarissima della dignità della vita umana ecco qua e nel versetto 9 e seguenti l'alleanza con Noè stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti dopo di voi con ogni essere vivente che è con voi e con tutti quelli che sono usciti dall'arc non sarà più distrutto nessun vivente dall'acqua del diluvio né più il diluvio devasterà la terra e disse questo è l'alleanza che lo pongo tra me e voi tra ogni essere vivente che è comunque per la generazione eterna il mio arco pongo sulla nubi ed esso sarà il signo dell'alleanza tra me e la terra l'arcobaleno ok e con questo finisce il diluvio universale abbiamo poi tutte quante le linee genealogiche post diluviane andiamo avanti e concludiamo c'è tempo spero rapidissimamente con l'episodio della torre di Babbele abbiamo cinque minuti anche qui l'episodio è molto molto celebre sappiamo che questo episodio si legge il giorno di Pentecoste perché Pentecoste rappresenta l'inversione di Babbele qui gli uomini per superbia vogliono arrivare fino a Dio e si dividono nelle lingue il giorno in cui avviene la riconciliazione tra l'uomo con Dio e la manifestazione della chiesa attraverso lo spirito santo Pietro parlava una lingua e tutti quelli delle altre lingue lo capiscono si ritorna a parlare la stessa lingua allora dice tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole e migrando dall'oriente gli uomini capitano in piena una del paese di Senna e vi si stabilirono si dissero null'altro venite facciamoci mattone e cuociamo il fuoco il mattone servì loro da pietra il bitume da cemento poi dissero venite costruiamoci una città una torre e la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non dispergersi dalla terra ma il signore è sceso a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo il signore disse e così si sono un popolo solo e hanno tutti una sola lingua questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno i progetti di fare non sarà loro impossibile scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendono più l'una lingua dell'altra il signore li disperse di là su tutta la terra e gli si cessavano di costruire la città per questo la si chiamò attenzione Babbele Babbel in ebraico significa proprio il termine Babbele significa tuttavia etimologicamente si vede anche nel per chi riesce a vedere le slides nel rico di destra qui si riesce a trovarlo Babbel Babbel from 1101 confusion vedete confusione significa Babbele perché là il signore confusi la lingua di tutta la terra eccetera eccetera e poi c'è la discendenza di Sem soltanto un particolare allora sapete che nella Sacra Scrittura questo capita non soltanto qui a Dio viene attribuita Dio è ritenuto la causa prima di tutte le cose quindi quando accade un evento viene sempre attribuito a Dio come causa intenzionale per esempio come vedremo quando tratteremo di Mosè si dice per esempio che Mosè ha indurito il cuore del faraone ma Dio non indurisce il cuore del faraone Dio ha permesso che il cuore del faraone si indurisse per operare i suoi prodigi così qui sembra se uno legge in maniera superficiale sembra quasi che dice sti uomini ci arriveranno fino a noi allora fermiamoli risperdiamoli le lingue così non ci arrivano non è cioè questo è il semitismo ecco dell'attribuzione a Dio della causa prima ma in realtà l'interpretazione autentica che poi la Chiesa ha dato di questo brano non è che Dio siccome dice non voglio che questi diventano come se gli uomini avessero potuto riuscirci a diventare come figuriamoci non c'è riuscito il diavolo a diventare come Dio figurati se ci diventano gli uomini ma questa pretesa di diventare come Dio non soltanto che non ti fa diventare come Dio ma ti divide anche dagli altri uomini fino al punto che non ti capisci più con la dispersione e la divisione quindi delle lingue questo è il senso con cui Santa Madre Chiesa ha letto sempre il suo brano e che chiaramente da di te bene ci possiamo fermare perché ci siamo detti veramente tante cose questa sera ecco abbiamo finito i primi undici capitoli del libro della Genesi la prossima volta vedremo che questo nuovo inizio dopo Babele attraverso la discendenza di Noè che arriva fino a Terach padre di Abramo sarà con Abramo con Abramo comincia non soltanto un'opera di come dire di azzeramento del male e come dire in qualche modo ripristino ma inizia la storia della salvezza quindi inizia quel lungo cammino che ci sta portando che colmina poi il nostro Signore Gesù Cristo ma che si è ancora percorrendo per cercare di tornare a quella di innocenza di Adamo perduto adesso è arrivata la redenzione quindi la grazia è tornata ma ancora perfettamente nella divina volontà come era Adamo non ci stiamo vivendo però piano piano ci stiamo avvicinando bene appuntamento alla prossima catechesi biblica e a chi ha seguito la diretta una santa notte e a tutti la mia benedizione a chi ha seguito la mia benedizione a chi ha seguito la mia benedizione grazie a tutti